Ho il piacere di presentarvi una nuova collezione di Botanicae. Botanicae è un brand, una maison spagnola, che utilizza materie prime assolutamente naturali e che offre un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. Questa nuova collezione è costituita da 5 fragranze, sono 50 ml, questa volta o de toilette intensa al 15%, e costano 65 euro l'uno. Quindi, avete capito bene, con 65 euro vi fate un profumo di nicchia. Va bene, già immagino i soliti commenti. Ah, va bene, ma non durano, non durano, non durano. Ricordate che i profumi non devono necessariamente durare otto ore. Questi hanno degli odori particolarissimi, sono davvero stupendi, sono delle chicchie. Andiamoli a vedere velocemente, uno ad uno. Melodia citrica, come dice il nome, questo è un bellissimo, agrumato, buonissimo, appunto una melodia agrumata. Serenata en flor, questo è un sussurro, un profumo delicatissimo, un bouquet floreale veramente stupendo. Andiamo avanti con il mio preferito, sussurro del boschè, un legnoso boschivo, verde, mascolino, aromatico, buonissimo. Banana blanca, goliardico, giocoso, spumeggiante, balsamico, buonissimo. E poi bacio la iliera, questo mi ricorda un bagnoschiuma di grande qualità. Fresco, freschissimo, veramente bellissimo. Ripeto, 65 euro. Con 65 euro avete la possibilità di farvi un bel profumino per tutti i giorni di nicchia, con materie prime di altissima qualità, tutte naturali. E ricordatevi sempre che con 65 euro farete anche un regalo da paura. Ovviamente li troverete presto nel mio sito online www.scentacademyboutique.com E ricordate, per ogni acquisto, spedizione gratis e 6 decantino omaggio, pure per questi.